Un'altra lettera scritta, ancora nel novembre del 1932 alle sorelle Campanile, due suoi figli spirituali, padre Pio scrive quanto segue. Dove potrò meglio servirti, oh signore, se non nel chiostro e sotto la bandiera del poverello di Assisi? Ed egli, vedendo il mio imbarazzo, sorvideva, sorvideva a lungo, e si fatto sorriso lasciava nel mio cuore una dolcezza ineffabile. Talvolta, veramente, me lo sentivo tanto vicino che mi pareva vedere nell'ombra, e la mia carne e tutto il mio essere risultava nel suo Salvatore, nel suo Dio. Ed io allora sentivo le due forze dentro di me che si cozzavano tra loro e mi laceravano il cuore. Il mondo che mi voleva per sé e Dio che mi chiamava a nuova vita. Dio mio, chi potrà ridire quell'interno martirio che in me si svolgeva? Il solo ricordo di quella lotta intestina che allora si andava svolgendo dentro di me mi fa agghiacciare il sangue nelle vene. Ed ormai sono trascorsi o sono per trascorrere vent'anni. Sentivo che la voce del dover obbedire a te, o Dio vero e buono, ma i nemici tuoi e miei mi tiranneggiavano, mi slogavano le ossa, mi dileggiavano e mi contorcevano le viscere. Volevo obbedirti, o Dio mio, esposo mio. Questo era sempre il sentimento che primeggiava in cima alla mia mente e dal mio cuore. Ma dove radunare tanta forza perché potessi con piede fermo e risoluto calpestare i falsi allettamenti prima e la tirannia poi del mondo che non è tuo? Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!